Marco Travaglio, la teoria dei due Mattei è una teoria che prende piede anche in molti osservatori in questo periodo. C'è la possibilità che gli interessi dei due leader politici convergano, Matteo Renzi e Matteo Salvini? Assolutamente sì. C'è una bella battuta che si fece quest'estate quando Renzi fu il primo a patrocinare un governo centrosinistra 5 Stelle per fregare Salvini. E tutti dissero che Renzi, come Gepp Gambardella della grande bellezza di Paolo Sorrentino, ama organizzare le feste per poi farle fallire. Lui ha organizzato quella festa e adesso sta lavorando per farla fallire. Ovviamente Renzi ha lo stesso nemico che ha Salvini, e cioè Giuseppe Conte. Perché hanno lo stesso nemico? Perché Giuseppe Conte, per varie circostanze che poi magari analizzeremo, è da un anno e mezzo il politico italiano in testa nei sondaggi.